ecco un altro veliero no conventional secondo lo stile di alessandro vismara forme squadrate linee da razor puro contenuti da gran cruiser attenzione al design ma la novità più grande è nascosta il motore elettrico che affianca il diesel e rende questo vismara 50 il capo stipite della generazione ibrida a vela il progetto hybrid sul quale vismara ha creato un vero e proprio brand a contenuti veri per l'ecosostenibilità bassi consumi e impatto al minimo ma anche per l'utente con la possibilità di arrivare in rada nelle aree marine protette un 16 metri a vela di razza con sistemi idraulici per gestire le vele grandi plotter sulle due ruote della timoneria pescaggio contenuto per navigare sotto costa elica de prua interni semi custom questa è una barca di concezione nello stile vismara cioè barca con costruzione in tecnologia avanzata in materiali compositi fibra di carbonio lavorato sotto vuoto quindi per avere caratteristiche e prestazioni notevoli sia in soprattutto in condizioni di andatura a vela questa barca limitando appunto il i pesi non necessita di grande motorizzazione abbiamo un motore da 95 cavalli e e con quindi con risparmio notevole di carburanti questa barca è un diciamo ha notevoli caratteristiche anche a vela appunto uno studio delle linee d'acqua e della carena notevoli per cui anche unite al peso e la leggerezza gli consente di avere un'andatura a vela abbastanza sostenuta la barca ha molta stabilità di forma per cui nelle andature portanti appena si comincia a tascare un po le vele la barca comincia subito a planare e possiamo raggiungere delle velocità da quindici e sedici nodi senza nessun problema lo studio della coperta e insieme agli interni è indirizzato a una l'assoluta vivibilità della barca sia dal punto di vista appunto degli interni che dall'attrezzatura di coperta quindi la posizione in coperta e la e il giusto equilibrio fra le manovre e lo spazio utile all'equipaggio all'armatore per per la tranquillità di della crociera gli interni sono realizzati in stretta collaborazione con l'armatore e seguono il filo di un utilizzo quasi da day sailor due cabine di cui un'ampia matrimoniale armatoriale a poppa entrambe totate di proprio bagno e un vasto open space living centrale che comprende dinette carteggio e cucina tutto bianchissimo luminosissimo e curato nei dettagli dalle luci a led agli inserti di cuoio sul pagliolato dai mobili su misura al chasse long ondulato anche le necessità proprie della barca ibrida hanno una soluzione esteticamente valida le batterie al litio trovano posto sotto alla cucina dietro a una grata su misura che trasforma l'utile in attraente fenomenale l'ispezionabilità del vano motore praticamente a 360 gradi come si addice al gioiello che dà anche il nome al progetto